Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MamiSport07, siamo qui con le paggela di eventi, sta solo 3-1, partite che ha visto Bianconelli approfittare del passo falso di Roma e Inter, cioè passo falso del pareggio di Roma e Inter, ci avviciniamo di due punti all'Inter, ci avviciniamo di due punti alla Roma, l'unica che non sembra perdere punti è il Milan, due pareggi con Genoa e Parma sembra praticamente infermabile, l'abbiamo fermato solamente noi, ma detto questo ringrazio il buon Antonio per le PixArtware, per farmi da editor insomma, non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con il video. Vamo ragazzi, in Porta Scesni si prende un 6 ragazzi, non sto qui a volutare la prestazione di Scesni, ha subito gol perché lui deve subire gol ogni partita, per prendere la rete in violata ci vuole Buffon, però è vero che ogni volta che subisce gol c'è un errore di Bonucci, uno di Demirale, cioè insomma alla fine lui fa gli errori, fanno gli errori, voglio dire Bonucci e Demirale lui non ne ha colpe per il resto della partita, fa una partita attenta, l'ho visto sicuro, quindi insomma il 6 se lo porta a casa. Parlando della difesa iniziamo a parlare di Bonucci che si prende un 5, sembrava aver iniziato bene il 2021 comunque con delle belle partite fatte contro l'Udinese e il Milan, però ieri si è di nuovo un po' perso, meno male comunque come ho detto nelle video recensioni della partita che avevamo comunque l'uomo in meno, perché per il resto veramente Bonucci ha fatto veramente cagare ieri, cagate su cagate e insomma questo non ce lo possiamo permettere noi che siamo la Juve. O sì, pur e penso che continuando così si farà togliere il posto, non so da chi perché anche Demirale non è che sta a giocare tanto bene, però Chiellini quando è in forma secondo me anche per l'età che ha può fare la differenza, vedremo se questa mia tesi verrà confermata. 5,5 per Demirale, leggermente meglio di Bonucci lui, però rimostra che la Juve non può fare più della riserva, perché ragazzi ogni volta che Demirale ha la sua chance la spreca malamente e prende insufficienza, prende insufficienza solo quando viene applicato per turnover, quando adesso finalmente poteva prendersi la Juve perché alla fine può andare bene vicino a De Ligt al posto di Bonucci, invece anche lui fa leggermente meglio del nostro capitano, però non so perché ogni volta che gli viene concessa una chance comunque bella grande che proprio lui aveva chiesto di giocare, la spreca. 5,5 per Demirale, poco attento in chiusura di defensive, 6,5 per Frabotta, lui in difesa è un disastro, peggio di Bonucci e Demirale ragazzi, però comunque per essere proposto da Under23 per essere una sorpresa in base alle sue potenzialità si prende un 6,5, fa anche l'assist per il gol del 2-1 di Ramsey, quindi insomma alla fine sono due partite di fila che comunque gioca con grande personalità, soprattutto in fase offensiva ragazzi, bisogna vedere com'è in fase difensiva, mi ricorda per certi versi anche Spinazzola, vediamo un po' se possiamo monetizzare magari da una successione, se ce lo terremo come riserva di Alessandro, non sa, però per il momento ho il mio voto per lui in 6,5, spero per lui che migliorerà in fase difensiva. Man of the Match, Danilo, 9, gol, assist, l'unico che chiude in difesa, l'unico che mi dà certezze, quest'anno è veramente una bestia, da terzino a sinistra, terzino a destra, da centrale di sinistra a centrale di destra, ha anche adattato a difensore centrale proprio quello di ruolo, quindi veramente incredibile, Danilo non ho più parole per lui, si prende un 9 ed è sicuramente il Man of the Match perché ieri nessuno è stato migliore di lui, nessuno si è avvicinato neanche di due voti ragazzi, quindi pazzesco, straordinario la prestazione di ieri di Danilo. Parlando invece delle insufficienze andiamo al centrocampo dove di solito le insufficienze si fanno sentire, 5 e mezzo per Arturo, ragazzi, spreca malamente in occasione, mi aspetto di più da lui, non ha giocato proprio malissimo, però in base alla sua potenzialità, essendo che lui è il centrocampista qualitativamente più forte che abbiamo, secondo me in forma sicuramente è migliore di McKennie, però qualitativamente più forte che abbiamo è Arturo, deve migliorare, non deve dar seguito a queste prestazioni negative, spero veramente per lui che migliorerà perché voglio adesso una grande prestazione da lui in Coppa Italia dove probabilmente verrà riproposto Ritolare dal Mr. Pirlo. Ennesima insufficienza per Bentancur, 5 e mezzo anche per lui, non è una novità che venga ammonito, ma è una novità che adesso sbaglia anche nella visione di gioco ragazzi. Ieri l'ho visto leggermente migliore nelle chiusure difensive dove spesso lui fa cagare, prende gialli, prende rossi, è il ruente eccetera, però ieri comunque l'ho visto meglio da questo lato di vista, però ieri ha perso la visione di gioco, non si sa perché, è discontinuo ragazzi, cioè non è discontinuo, è un continuo di prestazioni negative, per dargli una sufficienza ce ne vuole, quindi non capisco questo lato, spero per lui che si riprenda perché comunque anche lui è uno dei centrocampisti comunque più forti che abbiamo e deve riprendere. Si sette per McKennie, gli bastano 20 minuti per fare la doppia fase, perfetto in fase offensiva, perfetto in fase difensiva, l'assist per Frabotteritacqua è veramente un cioccolatino, dimostra di essere un centrocampista forte forte, per il momento nessuno gli può togliere il posto del titolare, spero per lui non sia niente di grave perché veramente se si va a infortunare pure lui, siamo veramente nella merda ragazzi, ma nella merda, quella proprio vera, quella più totale. Molto bene ieri anche Federico Chiesa che dimostra di essere bravo di sinistro e di destra, conferma ciò che ha fatto vedere con il Milan, certo non ha segnato, non ha fatto assist, comunque però il suo lavoro l'ha fatto, quindi si prende un buon 6,5, secondo me si è anche limitato per via della botta subita che ha portato all'espulsione di Obiang, però insomma il suo l'ha fatto e si porta un bel 6,5 a casa. Anche Dybala comunque si è molto limitato, si prende un 6, comunque ho visto un Dybala che si sacrifica in fase difensiva, ho visto un Dybala che comunque a ieri ha dato un punto di riferimento in attacco, per il resto aspettavo leggermente di più da lui, con magari più voglia di spaccare il mondo o cose del genere, però insomma una sfortuna su un'altra sfortuna, speriamo che ora non si sia infortunato gravemente che possa essere a disposizione con l'Inter, perché gli ultimi due Juve e Inter li ha decisi lui, quindi insomma ragazzi speriamo di raivere al più presto Paolo Dybala, perché ci serve ragazzi, ci serve, non possa accampare solo con Ronaldo e Morata, lui abbiamo visto che ci può decidere il protetto da un momento all'altro, per quanto riguarda il protetto di ieri si prende un 6, al contrario Ronaldo che invece si prende un 5,5, lo salva il gol ad un'insufficienza grave, io senza il gol avrei dato 4, come dice Allegri, come diceva Allegri, uno non può prendere 4-7 a seconda che faccia gol o no al novantesimo, quindi insomma ragazzi il suo gol non era neanche decisivo per dire, cioè alla fine è stato un cioccolatino di Danilo, se sbagliava pure quello, ha sbagliato davvero altri gol facili, essero troppo egoista un po' ieri, non ho visto il Ronaldo col Milan, quindi si prende un 5,5, meno male che almeno ha segnato, per quanto riguarda i subentrati 6 per Rabiot, ha dimostrato di essere il nostro miglior centrocampista terza che c'erano ieri, tra Arthur, Rabiot e Bentancuri, ieri ha giocato meglio Rabiot, peccato che siano tutti a 3 discontinui, l'unico che dà un unghio di continuità è McKennie, se ci mettiamo pure Ramsey pure lui è discontinuo, quindi insomma ragazzi 6 per Rabiot, subentrato, comunque quando subentra di solito va sempre bene, l'ho visto bene in fase ripensiva, bene in fase offensiva, spero che dia continuità perché il suo difetto principale è quello di essere discontinuo, quindi insomma vede di riprenderti Adrian Rabiot. Per quanto riguarda il resto del centrocampo, entra anche Ramsey, si prende un buon 6, non fa malissimo in realtà, perché alla fine riesce anche a segnare, però sbaglia veramente con l'elementario, non si sa perché davanti alla porta non tira mai, si fa veramente un disastro nel primo tempo, nel recupero, e vabbè comunque veramente non mi piace questa discontinuità, alla fine una sufficienza la faccio portare a casa perché alla fine ha fatto il gol ed ha dei tempi di inserimento fuori dalla norma, però il resto è tutto un disastro e se non migliora non può essere più di un panchinone in questa Juve. 7 per Kulusevski che entra, fa malissimo nel primo tempo, dove comunque sbaglia un gol di destro, però comunque per tutto il secondo tempo è una scesa sulla sinistra, è una scesa sulla destra, mette sempre in difficoltà gli avversari, dà veramente tanta mosse di impredibilità, quindi insomma un 7 sulla porta a casa molto meritatamente Dian Kulusevski. 6 e mezzo invece per Pirlo, terza vittoria consecutiva, media comunque superiore ai due gol a partita, abbiamo segnato più gol dell'anno scorso dalle Juve di Sarri, e questo gli fa reso onore, comunque abbiamo subito più o meno gli stessi gol, però abbiamo vinto molto meno partite, comunque intanto stava c'era dei passi avanti, il 6 e mezzo sulla porta a casa, terza vittoria consecutiva, per la seconda giornata consecutiva ricopriamo punti dai nostri rivali, siamo con una gara in meno, a meno 7 dal Milan, meno 4 dall'Inter e meno 1 dalla Roma ragazzi, quindi insomma con una partita in meno, essere quarti, e se quella partita la vai a vincere, vai a meno 1 dall'Inter e meno 4 dal Milan, stiamo veramente procedendo bene in salita. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se siete piaciute vi invito a lasciarvi un viaggio, se non è ancora fatto, iscrivetevi al canale, in descrizione il link per i suoi commenti su Instagram, da MonoSport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi! Grazie a tutti!